Musica Regionali due cittadini elettori chiedono l'annullamento, gli avvocati Zezze e Marone per conto di Gianluca De Santis e Beniamino Mastroiacomo hanno inoltrato un ricorso chiedendo la ripetizione delle ultime elezioni in regolarità riscontrate in quasi tutte le liste della coalizione di centro-sinistra, anche sul listino maggioritario. I Serni a Brasiello, il candidato sindaco del centro-sinistra, il presidente della Camera di Commercio ha vinto le primarie ottenendo 849 voti, superato Franco Capone che si è fermato a 551 preferenze, 1998 i votanti. Termoli, Cuore Molisano, Cuorella Filippo Basso, l'associazione dei cardiopatici ha denunciato il commissario ad acta della sanità a causa del presunto accanimento nel piano sanitario regionale nei confronti dell'ospedale Santimotio e della popolazione del Basso Molise. I Lupi espugnano anche il campo di Foligno, l'attaccante Rosario Maiella con il settimo gol stagionale regala al campo basso l'ottavo risultato, utile di fila, la salvezza è un passo, entro domani dovrebbe essere Capone a pagare gli stipendi, Serie D vincono il Termoli e l'Agnonese, pericolosa sconfitta per l'Isernia, eccellenza il Boiano batte il Fornelli e vede di ritorno in Interregionale. Buongiorno e bentrovati con il primo appuntamento settimanale dell'informazione di Molise TV. Come abbiamo ascoltato dai titoli, gli avvocati Margherita Zezza e Michele Marrone hanno depositato questa mattina presso il Tar Molise un ricorso di due cittadini elettori per chiedere l'annullamento delle ultime elezioni regionali, inoltrato anche un ricorso del Presidente del Consiglio Provinciale Gianluca Cefaratti che chiede l'ingresso a Palazzo Moffa. Vediamo il servizio. È stata la mattina dei ricorsi presentati al Tar Molise avverso alcune presunte irregolarità alle ultime elezioni regionali, così come per l'ultima legislatura annullata prima dall'Organo di Giustizia Amministrativa del Molise, sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato che ha posto fine alla decima legislatura decretando il ritorno alle urne. Anche questo inizio di mandato per il Presidente della Regione Molise, Paolo di Lara Frattura, si apre con l'ombra di possibili sconvolgimenti del risultato maturato lo scorso 26 febbraio. Questa mattina in Via San Giovanni sono presentati i legali Margherita Zezza e Michele Marrone che hanno depositato insieme due ricorsi. Il primo è stato presentato per nome e per conto di due cittadini elettori, Gianluca De Santis e Beniamino Mastro Iacovo, che verterebbe su alcuni vizi riguardanti quasi tutte le liste della coalizione vincente, anche sul listino maggioritario. In quest'ultimo caso, qualora il TAR dovesse dare ragione ai legali Zezza e Michele Marrone, ci sarebbe l'annullamento delle elezioni, questo quanto chiesto dai due avvocati nel ricorso. Presenta dei vizi che sostanzialmente, ove confermati, determinerebbero l'annullamento e quindi la ripetizione delle elezioni. Un altro ricorso riguarda vizi sulla autenticazione delle firme al momento dell'accettazione della candidatura e riguardante il Movimento 5 Stelle, irregolarità peraltro che erano già state riscontrate dall'ufficio elettorale prima della riammissione nella competizione dei grillini. Il legale Campobassano Margherita Zezza ha inoltre presentato anche un altro ricorso per conto di Gianluca Cefaratti, presidente del Consiglio Provinciale, che ha chiesto la revisione dell'assegnazione dei seggi in Consiglio regionale. Il sindaco di Campodipietra ha chiesto nel suo ricorso l'ingresso a Palazzo Moffa. In tal caso a fare spazio al rappresentante di Fare Molise potrebbe essere Patrizia Manzo, seconda eletta del Movimento 5 Stelle. Quindi anche sull'undicesima legislatura incombe quest'ombro scura. Qualora le elezioni dovesse essere annullate per la seconda volta consecutiva alla terza nella storia dell'ente, si raggiungerebbe un record poco invidiabile e che non farebbe lustro alla regione molise. Sui possibili tempi del ricorso a esprimersi è stato l'avvocato Margherita Zezza. Diciamo che nei prossimi giorni il presidente dovrebbe fissare e deve fissare l'udienza, quindi la nomina del relatore e quindi mandarci ad un'udienza fissa. E quindi avremo noi un termine dalla firma del decreto da parte del presidente di 10 giorni per notificare a tutte quante le parti resistenti e controinteressate. Quindi i tempi sono abbastanza brevi, il ricorso elettorale, il rito elettorale è un rito celere di per sé. Quindi diciamo che i tempi sono abbastanza ristretti. La scelta del prossimo presidente della Repubblica, affermato Costanza Carriero del Partito Democratico, sarà determinante per diverse ragioni. Nel breve periodo per cercare di uscire dalla crisi di stallo e dare un governo al Paese, ma soprattutto nel medio periodo per guidare l'Italia in una stagione di ricostruzione, è indubbia la difficoltà di trovare un degno sostituto del presidente napoletano e ora più che mai occorre dare un punto di riferimento forte e autorevole che guiderà il prossimo settenato. Nonostante ciò ha concluso Costanza Carriero il Partito Democratico, quasi come una sorta di maledizione ancora una volta attraversato da tensioni e inquietitudini che contrastano con il compito che gli elettori hanno affidato allo stesso partito e al segretario Bersani. E continuiamo a parlare di politica. Luigi Brasiello è il candidato sindaco del centro-sinistra alle prossime elezioni al Comune di Sernia. Il presidente della Camera di Commercio ha ottenuto alle primarie 849 voti, superando Franco Capone, che si è fermato a 551 preferenze. I votanti sono stati 1998. Il servizio è di Renna Gentile. Gli Sernini hanno scelto il candidato sindaco del centro-sinistra per la città di Sernia, Luigi Brasiello. Il presidente della Camera di Commercio, sostenuto dal Partito Democratico, ha vinto le primarie con 849 preferenze, pari al 42,77% dei voti. Dietro di lui, come da pronostici, Franco Capone, sostenuto dall'Italia dei Valori e dal Centro Democratico, con 551 voti. E' arrivato terzo l'ex consigliere comunale dell'Udeuro, Domenico Di Baggio, con 290 preferenze. Si è classificata a quarta la candidata, sostenuta da Sinistra Ecologia e Libertà, dal Partito dei Socialisti Italiani e dai Comunisti, vice Antonelli, con 216 voti. Soltanto ultimo Antonio Milano, candidato indipendente, con 78 suffraggi. Le primarie del centro-sinistra hanno fatto registrare il boom di votanti. 1.998 i Sernini si sono recati ai seggi, allestiti in Piazza della Repubblica, in Piazza Giustino Duva, in Piazza Palmerini e in Piazza Celestino V, per scegliere in prima persona il candidato alla carica di primo cittadino. Circa 2.000 voti, oltre il doppio degli elettori che parteciparono nel 2012 alle consultazioni per la scelta dei candidati a Camera e Senato, più del doppio anche rispetto alle ultime consultazioni popolari per la scelta del candidato presidente della Regione Molise del centro-sinistra e alle primarie del 2007 indette per scegliere il candidato sindaco in occasione delle comunali. Una partecipazione straordinaria per un risultato di grandi speranze grazie a tutti quelli che hanno consentito questa bella sfida di democrazia a Isernia. Con queste parole il presidente della Regione Molise, Paolo Di Laura Frattura, ha commentato i risultati delle primarie del centro-sinistra di Isernia vinte da Luigi Brasiello. Dopo ieri ha proseguito il presidente della Regione e si rafforza la grande vittoria che la nostra coalizione ha saputo conquistare alle ultime elezioni regionali. Con Luigi Brasiello ha concluso Frattura, ha vinto una proposta diversa dagli schemi tradizionali, proposta che premia anche l'esperienza maturata nel campo della rappresentanza associativa. E serviva uno come il sottoscritto, lontano dalle logiche dei politicanti, ha affermato un soddisfatto Luigi Brasiello, ancora gentile. Luigi Brasiello domina le primarie del centro-sinistra e si candida di diritto al sindaco di Isernia. Il presidente della Camera di Commercio Pentra si è affermato con 849 voti contro i 551 di Franco Capone. Le previsioni dunque sono state ampiamente rispettate e Brasiello si dice contento per la buona affermazione e molto carico e motivato ad iniziare questa nuova avventura. Intanto è stata un'avventura entusiasmante, indimenticabile. L'affetto che la gente di Isernia mi ha dimostrato ieri è stata veramente una cosa, non lo so, al di fuori delle mie aspettative. E questo mi fa capire che c'è voglia di cambiare, c'è voglia di andare avanti, di guardare avanti, di superare momenti difficili, ma soprattutto di guardare forse anche al di fuori della politica per tentare di trovare quelle persone, quelle soluzioni che possono essere di aiuto a questa città. Alta l'affluenza, 2.000 votanti, oltre il doppio degli elettori che parteciparono nel 2012 alle consultazioni popolari per la scelta dei candidati a Camera e Senato. Che segnale è questo? Ma io credo che è un segnale importante. Prima di tutto lo strumento delle primarie evidentemente ha funzionato bene. La gente si è sentita impegnata, interessata e ha voluto esprimere il proprio sentimento in questo momento così difficile. Per cui credo avere raddoppiato in qualche modo le persone che sono andate a dare questo segnale equivale a dire che i Sernia vuole cambiare, ma che soprattutto vuole un'amministrazione, vuole un sindaco. Ecco, io credo che questa sia la cosa più importante. Vi dico la verità, non vedo l'ora che arrivi il 26-27 maggio per tentare di amministrare questa città. Adesso scattene automatico la sospensione dalla carica di Presidente della Camera di Commercio. Sì, i tempi credo che saranno questi. Il giorno prima della presentazione delle liste scatterà l'autosospensione e poi chiaramente si dovrà vedere anche in Camera di Commercio. Ma non è questa la mia preoccupazione. Oggi sono, come dire, concentrato sulle liste che sono altrettanto importanti, liste che devono essere necessariamente forti per evitare il problema che c'è stato l'altra volta. E quindi adesso ci saranno, credo, 12-13 giorni di concentrazione totale su questo aspetto. Ma vedrete, insomma, che ne usciremo bene. Gli Sernini hanno eletto candidato sindaco del centro-sinistra, un personaggio, una figura che è strana al mondo della politica. Lei non pensa che questo sostegno da parte del PD possa influenzare in maniera negativa sulla sua poi eventuale elezione a maggio? No, assolutamente no. Il PD è stato un partito intelligente che ha voluto allargare in qualche modo alla società civile, ha voluto allargare la propria piattaforma. Credo che sia una maniera intelligente, un approccio nuovo nei confronti della politica. Io rimango ovviamente indipendente, farò di tutto perché i partiti possano, come dire, coagularsi sul mio nominativo, ma credo, insomma, soprattutto che saranno i cittadini quelli che decideranno ciò che dovremo fare e ciò che faremo nel prossimo futuro. E restiamo a Esernia. Per la frana del Macerone che ha interrotto la viabilità sulla strada statale 17 è stata chiesta la convocazione di un tavolo istituzionale per studiare i possibili interventi da mettere in campo. Obiettivo dell'incontro è quello di stabilire a chi competano gli interventi di ripristino della statale. L'imponente cedimento del fondo stradale interessa un'area vasta, tanto da aver reso impraticabile l'arteria, dirottando il traffico sulla variante Esernia-Casteldisangro e provocando non pochi disagi per i cittadini dei paesi limitrofi. E ora, come ogni lunedì, la rubrica L'occhio che uccide tratta dal settimanale del Molise a cura di Aigor. Vediamo. Ad eccovi servito il nuovo manager della sanità molisana Carmine Ruta, 66 anni, una laurea in medicina 34 ed una specializzazione in terapia intensiva a 41 anni nello stesso anno, il 1988, che gli cambierà davvero la vita. In quell'anno, infatti, ottiene anche un master in direzione aziendale presso l'Università Bocconi di Milano. Ruta diventa, infatti, un bocconiano vero, uno nel giro giusto dei bocconiani. È talmente bocconiano che ha scritto anche un libro per l'università a suo tempo guidata dal presidente del Consiglio, Mario Monti. Un libro dal titolo Ai confini della medicina. E ai confini della medicina lo ha portato il suo curriculum bocconiano dopo una lunga parentesi in uno dei tanti anfratti dei poteri forti italiani, Telecom Italia. In Telecom Italia Ruta entra nel 1996 e ci sta fino al 2005. Ma chi ci fa un medico specializzato in terapia intensiva in Telecom? Forse organizza il 118? No, lui è responsabile della divisione sanità del gruppo telefonico, in particolare della sua controllata informatica Finziel. In pratica il buon Ruta ha fatto questo. In qualità di dirigente responsabile della divisione sanità Finziel Gruppo Telecom Italia si è occupato a livello ministeriale e regionale della realizzazione operativa delle soluzioni e della gestione del sistema informativo telematico, ovvero i governance, i government, i knowledge, i procurement, i service, i learning del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre si è occupato di assessment tecnologico-medicale, di progettazione e gestione di soluzioni ICT, in collaborazione con le più importanti aziende del settore. Un vero uomo dei poteri forti, di quelli che fanno la spola tra aziende pubbliche o ex pubbliche, è la Telecom dei capitani coraggiosi di D'Alema e di Mr. Tronchetti Provera, quello del gruppo Tavaroli e delle loro intercettazioni telefoniche. In altri tempi si sarebbe chiamato un gran commie oggi, dopo un periodo marchigiano, sempre a fare il manager della sanità, a proda in Molise, con buona pace di frattura che voleva un bando aperto, ma poi si è dovuto piegare alla Realpolitik dello sblocco dei 200 milioni di fondi per la sanità, congelati da Basso e dal governo tecnico. Con buona pace dei molisani, che in 320.000 non hanno evidentemente qualcuno capace di proporre per gestire la loro sanità e i loro soldi. Il subcommissario, ma sarebbe meglio chiamarlo supercommissario basso, uomo dei poteri forti nazionali, un passato anche nella cattolica, ha deciso e ha deciso per un tecnico, uno di quelli della compagnia di giro, come la Fornero Frigniero o Michel Martone, giovane e brillante, grazie anche al padre che gli assegna una consulenza da 100.000 euro. Non solo. Nonostante il deficit, il sistema sanitario molisano continuerà a pagare sino al 2014, Angelo Percopo, mentre inizierà a pagare d'aprile 2013 il nuovo manager. In pratica, qualche punto dell'addizionale regionale se ne va solo per garantire gli stipendi ai tanti supermanager della sanità molisana. Tornando a Ruta, un nome che nel Molise evidentemente porta bene, bisogna segnalare come si tratti di un manager che nelle marche ha previsto la chiusura, ma lui parlava più di asetticamente di ridimensionamento e riposizionamento, di ben 16 piccoli ospedali. Uno che ha lasciato la guida dell'Agenzia regionale Salute delle Marche dopo che la Giunta l'aveva soppressa, con tanto di ricorso al giudice del lavoro e tra infinite polemiche. E oggi questo bocconiano DOP ha in mano la sanità molisana. In bocca al lupo, con regionali. L'associazione Cuore Molisano è tornata alla carica presentando una querela nei confronti del commissario straordinario alla sanità Filippo Basso. Nella denuncia si parla di accanimento nei confronti dell'ospedale Santimotio e della popolazione del Basso Molise. Il servizio è di Giovanni Cannassa. Il piano basso continua a non convincere l'associazione Cardiopatici Cuore Molisano ha annunciato a Termoli nuove iniziative nei confronti del sub-scommissario delegato di redigere il nuovo assetto della sanità in Molise. Il presidente dell'associazione è liberato di felice di concerto con l'avvocato Annibale Cerniello ha presentato una querela ai carabinieri del comando adriatico. Secondo i diretti interessati, il presidio ospedaliero di Termoli e la popolazione del Basso Molise sono totalmente penalizzati da un piano che in tutto prevede 177 posti letto tra Termoli e Larino a fronte di una popolazione di 150.000 unità senza pensare ai tagli agli altri reparti. A Natale erano state raccolte 6.400 firme per tutelare il reparto di emodinamica del Santimotio ed il resto dei reparti dove sono previsti dei tagli. Le firme però dopo essere state consegnate al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sono diventate lettera morta. Un appello è stato rivolto anche ai politici che hanno firmato per la salvaguardia del presidio e che poi sono spariti nel dimenticatoio subito dopo la conclusione della campagna elettorale. Con la querela si chiede più rispetto e dignità per l'ospedale di Termoli. Tra le righe anche un appello alla procura della Repubblica di Larino di fare brocco se ravedesse quelle motivazioni che hanno indetto a presentare la denuncia. Non entro nel merito del contenuto della querela, però il fine della querela è quella di tutelare la salute dei cittadini basso molisani in primis. Dalla lettura del piano sanitario abbiamo trovato una serie di incongruenze e vogliamo che la magistratura inquirente possa valutare e prendere ad esame tutto l'iter procedimentale nella redazione del piano sanitario che attualmente è al vaglio del Ministero. Dalla nomina del commissario Filippo Basso fino a quando non è stato ultimato il piano sanitario reso esecutivo ad essere al vaglio del Ministero per l'eventuale approvazione e poi attuazione. Vogliamo evitare con le unghie e con i denti che questo piano sanitario venga attuato nel territorio molisano in particolare in quello basso molisano perché ciò comporterebbe secondo me seri rischi a livello di salute della popolazione molisana. Avete parlato di accanimento. L'accanimento l'abbiamo notato dopo la ricezione della diffida. La prima lettera che abbiamo mandato al dottor Filippo Basso dove già noi eravamo contrari a quando stabilito dalla legge sulla spending review dell'istituzione di un centro hub a Campobasso e poi un centro spocca a Termoli. Quindi praticamente lo spocca non poteva tutelare i malati in un servizio a termine a tempo 8-14, cioè periodi morti in cui l'utente si recava in ospedale e non poteva ricevere le cure necessarie. Dopo la lettera addirittura hanno eliminato in determinate le parti anche il centro spocca. Quindi non è più l'ospedale di Termoli un dea di primo livello ma scende il suo livello perché ovviamente viene accentrato un po' tutto a Campobasso ma la cosa più grave è che non viene accentrato in una struttura pubblica si tende molto ad accentrarlo in strutture private. Il calo dei consumi, l'inasprimento della pressione fiscale, la restrizione del credito alle imprese da parte degli istituti di credito sono affermato in una nota stampa confimpresa i punti cardine da affrontare con la contestuale restituzione alle regioni della facoltà di regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali nei giorni festivi e durante le domeniche. Il nostro impegno vuole concretizzarsi anche attraverso confronti immediati e decisi con tutti i livelli istituzionali per avanzare delle proposte con cui si può provare a combattere la crisi. È una concreta occasione per le piccole e medie imprese agroalimentari del Sud Italia di internazionalizzarsi. Questo è l'obiettivo dell'evento promosso dalla Camera di Commercio del Molise insieme a Mondo Impresa e ad altri enti camerali che da domani farà tappa a Campobasso. Sentiamo i dettagli nel servizio di Tiziana Cucaro. Southern Italy Agri-Food Tourism. Questo è il titolo della quarta edizione dell'evento promosso dall'Union Camere Molise unitamente a 17 Camere di Commercio del Sud d'Italia in collaborazione con Mondo Impresa e con il patrocinio di Union Camere Nazionale che da domani farà tappa presso l'ex gile di Campobasso per una due giorni di intenso lavoro finalizzata a favorire e rafforzare l'internazionalizzazione delle imprese agroalimentari e turistiche d'Italia e interamente dedicata al settore olivicolo. Un'occasione per le piccole e medie imprese che non hanno quote di mercato estere di internazionalizzarsi incontrando i cosiddetti buyers provenienti da Germania, Gran Bretagna, Spagna, Polonia, Canada e Francia. Ben 61 le postazioni di lavoro in cui le imprese molisane potranno mettersi in contatto con le realtà internazionali interessate all'acquisto di prodotti del sud d'Italia per dar vita ad accordi commerciali. Il settore olivicolo così come per il resto delle regioni meridionali è sempre più rilevante anche per il Molise e per il proprio export, perciò appare quanto mai necessario investire su di esso. L'olio insieme al vino, insieme alla pasta fa parte dell'agroalimentare e quindi è il nostro fiore all'occhiello perché il Molise ha una bella percentuale di esportazione. Questo significa che molto probabilmente i nostri operatori sono così bravi che hanno saputo innovarsi, hanno saputo qualificarsi, hanno puntato tutto sulla qualità e adesso i risultati stanno arrivando. Stanno arrivando perché io credo che il mercato europeo, il mercato mondiale, vuole sempre di più questo tipo di prodotti. Appuntamento dunque a partire dalle 9 di domattina presso la struttura dell'ex gile di Campobasso quando l'opportunità per i piccoli e medi imprenditori entrerà nel vivo. E' un anno dalla scomparsa di Piero Ioffredi per tutti, semplicemente Polpetta, proprio come il nome dell'onomio locale di Campobasso, il Circolo La Nebbia di Boiano, ricorda la sua scomparsa con un aperitivo. Alle 18 di questo pomeriggio il ricavato dell'evento sarà devoluto all'associazione Polpetta Ollus, nata per proseguire il percorso di solidarietà a cui Piero Ioffredi, durante il corso della sua esistenza, aveva dato vita silenziosamente. E parliamo adesso della vertenza ITR. E' scontro tra i sindacati e i 134 ex dipendenti dell'azienda di Pettoranello. Giovedì scade la cassa integrazione guadagni straordinari e venerdì la mobilità. Una soluzione questa che non piace però a tutti gli ex lavoratori che speravano in un contratto di solidarietà e accusano i sindacati non si sono spesi a sufficienza per tutelare i nostri diritti. Pronto anche un ricorso alla Tarmolise, il servizio di Ranna Gentile. Giovedì 18 aprile scade la cassa integrazione straordinaria per i 134 ex dipendenti dell'ITR e venerdì 19 aprile scatterà così la mobilità. Ma non tutti gli ex lavoratori dell'azienda tessile di Pettoranello sono d'accordo e accusano i sindacalisti della CGL, CIS e UIL di non aver fatto abbastanza a tutela dei loro diritti. Questi sindacati non hanno fatto nulla, non hanno speso una buona parola per tutti quanti noi. Tant'è vero che due anni fa quando sono andata in cassa integrazione ho portato qui da noi anche il dottor Zipponi che ha spiegato i contratti di solidarietà risparmiando anche sulla cassa integrazione. Bene, questi non sono stati accettati perché dai nostri sindacati non poteva funzionare in quanto per le funcibilità che ci sono all'interno. Adesso dopo due anni ci scatta la mobilità che non siamo stati neanche avvisati. Ovviamente c'è arrivata la lettera dopo tre giorni che era già uscita la notizia sul giornale. Quindi è questo come ci tengono in considerazione. Scopriamo che per 250 dipendenti o 300 vorrebbero fare contratti a rotazione che sono di pari passo con quelli di solidarietà. Quindi praticamente noi ci chiediamo come mai ci siano queste disparità tra quelli usciti prima e quelli adesso. Intanto è già pronto un ricorso al TAR. Io personalmente vorrei portare questi miei colleghi al TAR, al ricorso al TAR perché per la legge Fornero visto che praticamente se è valida per tutta Italia dovrebbe essere valida anche per noi, per tutti perché per noi sembra che non ci sia possibilità quindi andiamo in mobilità. Mentre per altri c'è la cassa integrazione. Da quello che mi ha conoscenza è che so che la legge Fornero non prevede altre cassa integrazioni. Allora io mi chiedo come mai i ragazzi del Carrefour, l'ITR che è rimasto ancora con la nuova società possano fare cassa integrazione mentre noi siamo stati buttati fuori senza nessun trattamento speciale. Pronta la replica di Lino Zambianchi della CGL che in merito al contratto di solidarietà dice I contratti di solidarietà sono applicabili in un'azienda che è in crisi e siccome qui il caso non è questo non erano applicabili i contratti di solidarietà perché noi stiamo parlando di una vecchia ITR andata in amministrazione straordinaria che dismette l'attività e arriva un imprenditore che prende una parte dei dipendenti. L'imprenditore che prende una parte dei dipendenti non può partire con un contratto di solidarietà appena si insedia, parte con un contratto di solidarietà se ne ha bisogno quando la sua impresa va in difficoltà e quindi di contratto di solidarietà in questo caso non si poteva assolutamente parlare. Perché è possibile il servizio idrico pubblico? Se ne è discusso a Termoli nel corso di un convegno organizzato dalla Fondazione Don Milani e dall'assessorato all'ambiente del Comune Adriatico da quanto annunciato anche Termoli eliminerà la privatizzazione dell'acqua e il servizio di Giovanni Cannarsa. Ascoltiamo. Un atto di indirizzo politico da parte della Giunta Comunale per ripubblicizzare il servizio pubblico dell'acqua a Termoli ad annunciarlo è stato l'assessore all'ambiente della cittadriatica Augusta De Giorgi in un convegno organizzato dalla Fondazione Don Milani e dal titolo Servizio Idrico Pubblico a Termoli perché è possibile. Tra i relatori era presente anche Alberto Lucarelli ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Napoli che ha parlato di tutti i vantaggi che potrebbero arrivare da un servizio idrico pubblico. I vantaggi sicuramente sono che il servizio sia gestito tenendo conto delle fasce più deboli sicuramente indirizzare tutte le forme di investimento per il miglioramento delle infrastrutture lei sa che invece le logiche delle società per azioni sono quelle orientate ai dividendi e che quindi una parte degli utili non siano reinvestiti invece con l'obbligo di reinvestire tutti gli utili per il miglioramento delle infrastrutture e poi in termini di partecipazione, in termini di informazione, in termini di controllo quindi evitare tutte quelle disfunzioni che hanno caratterizzato le soggettività di diritto privato che hanno gestito negli ultimi anni i servizi idrici appunto nel nostro paese che hanno determinato una fortissima riduzione degli investimenti e un aumento delle bollette. Perché appunto è difficile se così possiamo dire far passare questo concetto c'è stato un referendum, i cittadini sono espressi però alcune amministrazioni comunali magari anche proprio come quella di Termoli sono ancora titubanti. Ma è difficile per due ordini ovviamente di ragione c'è una ragione di natura politica, negli anni 90 il grande progetto diciamo spartitorio che vedeva insieme soggetti anche stranieri, multinazionali, banche, mondo della finanza e imprenditeria locale era quello appunto di procedere alla svendita e alla privatizzazione dei servizi pubblici essenziali dove vedevano in un regime di monopolio naturale facili guadagni, pochi investimenti e i guadagni principalmente sulle spalle dei cittadini attraverso il discorso tariffario. Tutto questo ovviamente, questo giocattolo che era stato posto in essere a un certo punto si è rotto perché i cittadini hanno capito che quello che stava succedendo stava determinando l'opposto quindi una riduzione degli investimenti e l'aumento delle tariffe. Il referendum si è espresso in maniera chiara e netta c'è però in piedi ancora da un punto di vista proprio di patti che sono stati siglati a cavallo tra il 1999, 2000, 2001 e 2002 sono stati siglati una serie di patti che devono essere portati a compimento quindi c'è una forte resistenza tra questi soggetti che vogliono portare a termine quei patti siglati e ovviamente però la resistenza invece dei cittadini che hanno capito che il grande inganno delle privatizzazioni che non portava e che non avrebbe portato quei benefici che venivano diciamo così ben pubblicizzati e comunicati. Poi ovviamente c'è un problema di natura giuridica, normativa che deve essere affrontato e questo deve essere affrontato con grande serietà, con grande rigore. Noi ci abbiamo messo 18 mesi a Napoli appunto per ripubblicizzare il servizio se lo abbiamo fatto, bisogna farlo con grande attenzione ci sono tantissimi passaggi ovviamente da seguire e poi anche il tema della sostenibilità finanziaria. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per la cordata attenzione e vi rimando alle prossime edizioni della nostra informazione. Ora le previsioni meteo che annunciano una settimana calda a seguire il Tg Sportivo con i servizi delle principali squadre molisane scese in campo ieri un pomeriggio positivo con le vittorie di Campobasso, Termoli, Agnone e quasi a prodo in Serie D del Boiano. Una buona giornata a tutti. Il meteo è offerto da Scegli Italian Gas e troverai il massimo risparmio. Chiama il numero verde 800 76 89 89 e capirai come risparmiare. Italian Gas, energia per passione. Previsioni del tempo per martedì 16 aprile. Un campo di pressione medio-alta favorisce una nuova giornata tipicamente primaverile, prevalentemente soleggiata con qualche velatura in transito nelle zone più alte. Clima gradevole con venti deboli, di brezza, mari poco mossi. Vediamo ora in dettaglio le temperature. Campobasso minima 9, massima 20 gradi. Isernia minima 7, massima 19 gradi. Termoli minima 10, massima 17 gradi. Il meteo è stato offerto da Scegli Italian Gas e troverai il massimo risparmio. Chiama il numero verde 800 76 89 89 e capirai come risparmiare. Italian Gas, energia per passione. Il meteo è stato offerto da